Ancora Lopez, Schmidt e Pinto. In gol quattro calciatori diversi, segno di un attacco che gira e che al momento è inferiore come bottino soltanto a quelli di Brindisi, Nardocca, Sarano e Fasano. L'approccio del neopromosso Martina alla Serie D è sicuramente ben augurante. E se contro i rossazzurri Salentini è arrivata la sconfitta malgrado l'iniziale vantaggio e pur disputando un gran primo tempo, nella trasferta lucana contro il Lavello gli trianisi sono decisamente rifatti con gli interessi. Arrivati oltre gol anche i tre punti. La squadra crea tanto, segna e potrebbe avere ancora margini di miglioramento. Ed è da qui che mister Pizzulli può e deve ripartire in vista del prossimo impegno interno contro la Nocerina. Al primo tempo siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto altre due occasioni clamorose a tu per tu dove potevamo essere più precisi. Secondo tempo, onestamente, anche con i cambi è stato un monologo. Abbiamo avuto veramente tante occasioni. Il rimprovero che posso fare è quello di non aver fatto il raddoppio primo. L'abbiamo fatto alla fine, dopo 6-7 palle gol pulite. Questo è il risultato che ci meritiamo. Domenica scorsa c'è ancora il rammarico per avere una partita che anche lì ce l'avevamo in pugno. Poi l'abbiamo persa alla fine contro una grossa squadra. Oggi abbiamo riproposto lo stesso tipo di gioco, cercando di migliorare là dove eravamo venuti meno domenica scorsa.